Si chiama Prospettive, la prima edizione del premio culturale istituito dall'Associazione Teatrale La Piccola Ribalta con cadenza biennale. Un premio che è stato assegnato alla scrittrice peserese Simona Baldelli per la sua abilità letteraria di narrare e valorizzare la sua terra d'origine. Abbiamo identificato nella scrittrice Simona Baldelli, autrice di almeno tre opere, dove Pesero è messa in luce, è portata attraverso la scrittura, la narrativa di Simona Baldelli, l'ha portata in auge ed è molto utile ricordare attraverso la scrittura ciò che è stata Pesero e anche quella che è Pesero. Io credo che i luoghi dove siamo nati siano in qualche modo dei luoghi che ci formano. Il nostro senso estetico si forma e si struttura là, osservando i luoghi dove per primi abbiamo mosso i nostri passi, il nostro senso della musica o di ciò che è armonioso musicale. Si fonda sui primi suoni che abbiamo ascoltato e intendo anche il dialetto, le lingue locali e quindi ritornare alle prime parole ascoltate da bambini, ritornare a camminare laddove abbiamo mosso i nostri primi passi. Per uno scrittore significa spesso ricongiungersi in qualche modo con il se stesso bambino e quindi con la parte più immaginifica, con la parte più legata ai sogni. E quindi dopo una decina di romanzi e partecipazioni ad antologie, di racconti, guide eccetera, testi teatrali, tornare qui a Pesero dove sono nata per ricevere un riconoscimento che mi qualifica come una scrittrice, che racconta e in qualche modo qualifica il territorio, è una gioia immensa. Ancora una volta la piccola ribalta porta la cultura e premia la cultura non solo a livello territoriale pesarese, ma premiamo la cultura che evidenzia il nostro territorio in Italia. Perché oggi sì c'è Simona Baldelli, ma fra due anni magari ci sarà un artista che non è di Pesero, magari è di un altro stato, ma in qualche modo attraverso le sue opere porta ed evidenzia Pesero in alto. Per noi questo è importante e noi lo facciamo teatralmente con le opere già note mentre gli autori presentano le loro opere. Questo è un premio alle opere, non all'autore. Poi l'autore chiaramente viene premiato da noi per le opere che fa. A rappresentare il primo premio Prospettive, una scultura realizzata da Mirko Bravi. Contento di aver prodotto un oggetto, una ceramica, che può essere appunto un premio al posto della solita coppa o targa. È stata molto apprezzata anche appunto dalla signora Baldelli, l'autrice premiata, in quanto abbiamo in comune di essere tutti e due di Pesero e quindi riuscire con le sue opere e con la mia opera valorizzare la città di Pesero. Nel mio caso stilizzando conchiglie o soggetti marini per produrre appunto queste nuove opere e sculture che assomigliano a questi elementi fitomorfi, zoomorfi e ricordando però anche il territorio e soprattutto la città di Pesero.